buona giornata amici da massimo foghetti ben trovati alla rassegna stampa di fanu tv oggi è lunedì 23 gennaio 2023 e si festeggia lo vediamo subito nell'almanacco del giorno sante merenziana sante merenziana vergine martire si narra che partecipando ai funerali di sant'agnese di cui abbiamo celebrato la festa sabato scorso e merenziana fu aggredita come gli altri che partecipavano al corteo funebre da un gruppo di pagani ma invece di fuggire come avevano fatto praticamente tutti lei affrontò apostrofò duramente coloro che erano lì con bastoni e intenzioni cattive e purtroppo ebbero la meglio gli assalitori e sante merenziana fini uccisa colpi di pietre ecco perché viene ricordata dalla chiesa cattolica come appunto martire per la sua fede vediamo anche le previsioni del tempo e vediamo che il tempo è prettamente invernale sulla no sulle nostre coste ma anche soprattutto nell'entroterra e vediamo come nelle marche la temperatura è molto rigida tempo perturbato con forti piogge sulla costa e nell'entroterra neve fino in pianura al mattino in giornata fenomeni in progressiva attenuazione i venti sulle coste espireranno da nord est all'interno invece con una tensione più debole da ovest le temperature si aggirano tra i 2 e i 7 gradi ma nell'entroterra specialmente nelle colline abbiamo anche valori che vanno sotto zero magari di poco ma insomma la temperatura è molto molto rigida apriamo i giornali apriamo il corriere adriatico questa mattina sulla pagina di fano e vediamo qui il titolo che si riferisce ovviamente al maltempo troppo esposti alle intemperie così non possiamo andare avanti lo dichiarano i bagnini per i quali l'erosione è ancora un problema duro da affrontare il grido d'allarme dei concessionari di spiaggia l'erosione si mangia le spiagge ne risentirà tutto il settore turistico finché non si interviene ormai in maniera completa molto è stato fatto dobbiamo dire molte coste sono state protette però ci sono dei vuoti sui quali la forza dei marosi è ancora appare ancora più accentuata e proprio in quei punti la spiaggia ne risente perché viene sottratte vengono sottratti volumi volumi metri cubi metri cubi di sabbia e quindi appaiono degli scalini che rovinano tutte le concessioni balneari duro colpo dice il giornale alla spiaggia di sassonia tra i bagni carlo e i bagni gabriele danneggiata anche la passeggiata dell'isippo comunque due giorni di vento forte di mare grosso hanno provocato difficoltà e molti danni anche perdite di spiaggia così come abbiamo detto ci sono anche infiltrazioni nelle strutture balneari nei capanni nelle strutture nei servizi pubblici e quindi sono danni veramente diffusi in tutto il litorale nonostante la notte da tregenda la situazione però è rimasta tutto sommato stabile nella zona dell'Arzilla dove ci sono le concessioni di Animalido Isla Morada Dog Beach e anche nella zona di Ponte Sasso dove le concessioni interessate già nella giornata precedente da profondi fenomeni di erosione marina hanno un po' retto ma comunque anche qui la situazione è piuttosto grave le violente raffiche di vento tra l'una e le tre di ieri notte hanno provocato ripetuto crolli di alberi vigili del fuoco polizia locale e volontari di protezione civile sono stati impegnati per molte molte ore per liberare soprattutto le strade per quanto riguarda la viabilità secondaria della campagna via papiria era costellata di alberi e rami caduti anche il letto del canale Olbani è stato interessato per la rimozione appunto di tronchi e alberi che avrebbero potuto anche danneggiare la fauna che popola il corso d'acqua e poi il vento ha causato un crollo lo vediamo qui nell'articolo di fondopagina in un edificio in corso Matteotti in pieno corso Matteotti in centro storico a Fano un cornicione ha ceduto sono intervenuti i vigili del fuoco con la motoscala che hanno messo in sicurezza tutto il palazzo il palazzo è quello che si trova all'incrocio tra corso Matteotti e via Montevecchio cornicione a rischio chiuso un tratto di corso appunto a Fano e vediamo ora un'altra notizia non bastava il maltempo ci voleva anche il terremoto e torniamo a parlare di terremoto perché insomma qui a Fano TV il terremoto ha fatto notizia brutto risveglio con il boato la terra continua a tremare magnitudo 3 il punto centrale è stato rinvenuto è stato identificato in quel di Saltara una scossa percepita però in tutto il Fanese ma anche in tutta la provincia di Pesaro risveglio con il boato ieri mattina erano poco dopo passate le 7 insomma per i residenti del Fanese quindi c'è stato anche un brusco risveglio per molte persone la scossa a differenza di quella più forte ovviamente del 15 novembre scorso è stata di lieve entità magnitudo 3.0 con un epicentro a due chilometri a sud est di Saltara in molti hanno avvertito distintamente il tremolio sui social poi hanno trovato conferma che si trattava di una scossa di terremoto monitorato l'arco di Cerasa che avrebbe potuto mostrare dei segni di cedimento sul quale erano apparse un po' di crepe quindi la situazione era alquanto precaria e il sopraluogo dell'ufficio tecnico comunale e dei vigili del fuoco e la messa in sicurezza con un ponteggio e transenne hanno poi risolto la situazione ebbene su questo articolo pubblicato oggi dal Corriere Adriatico si evidenziano un po' gli stati d'ansia, la paura, il brusco risveglio che ha determinato questa nuova scossa di terremoto e da 15 novembre scorso insomma la situazione ancora non si è ristabilizzata perché ogni tanto appaiono queste scosse definiamole di assestamento ma in realtà sono scosse che danno una certa ansia, una certa paura alle persone proprio per la loro ripetitività Potenziato il servizio di cardiologia 18 ore per tre ospedali vediamo un attimo di inquadrare meglio questo articolo eccolo qua dal primo febbraio aprono ambulatori a Cagli, Fossombrone e Pergola dunque una boccata d'ossigeno per tutto l'entroterra dal primo febbraio saranno attivate 18 ore settimanali di cardiologia tra Cagli, Fossombrone e Pergola lo ha annunciato il consigliere regionale dei civici per le marche Giacomo Rossi inutile dire che si tratta di una implementazione di un servizio essenziale soprattutto per il comprensorio del nostro entroterra sono molto soddisfatto, ha dichiarato Rossi per aver raggiunto un obiettivo così importante ma ovviamente saranno molto più soddisfatti coloro che hanno bisogno di queste prestazioni che ora potranno trovarle vicino alla loro residenza e quindi non dovranno più percorrere lunghe distanze per avere le cure necessarie Vediamo le altre notizie Beh, adesso per andare a cercare tartufi è possibile andarci anche a cavallo a cavallo per trovare tartufi a San Lorenzo in campo poi al ristorante e cucinarli la singolare esperienza proposta da un buttero durante la stagione della raccolta in un territorio da sempre ricco, ricco di tartufo ora si può cercare anche a cavallo l'originale idea è di Buttero Zone realtà nota l'estate di due anni fa per far vivere esperienze outdoor quindi fuori all'aperto a cavallo utilizzando la razza autoctona del Catria la razza autoctona del Catria è veramente una razza molto bella forte, bella a vedersi, elegante e quindi oltre alla bellezza di andare a cavallo nel territorio anche l'estetica ha il suo vantaggio vediamo anche come il Corriere Adriatico ritorna sulla notizia del consuntivo della Polizia Locale di Mondolfo che in occasione della festa di San Sebastiano ha svolto un resoconto di tutto quello che ha fatto durante l'anno per quanto riguarda i controlli, per quanto riguarda le multe e soprattutto per quanto riguarda quei settori dove gli automobilisti sono stati più indisciplinati ne abbiamo parlato nella rassegna stampa dei giorni scorsi e vediamo a Senigallia una notizia di cronaca purtroppo muore una donna di 77 anni nel rogo della sua casa è stata trovata sul divano ormai priva di sensi probabilmente soffocata dal fumo che si era sprigionata tutto attorno le fiamme avevano devastato mobili, superlettili gli arredi della sua cucina la camera da letto poi era distrutta anch'essa dalle fiamme hanno tentato inutilmente di rianimarla e nello stabile dove si è scatenato l'incendio sono state evacuate anche altre 13 famiglie nel rogo del suo appartamento di Via di Vittorio ha perso ieri la vita Anna Maria Cascice Cacci nata a Senigallia, aveva 77 anni e sono stati i vicini notando il fumo uscire dalle finestre a chiamare subito i soccorsi sul posto ovviamente sono subito arrivati i vigili del fuoco dei Senigallia che hanno fatto irruzione nell'appartamento ma purtroppo per la donna non c'era più nulla da fare e per quanto riguarda invece il maltempo vediamo che a Senigallia le scuole sono chiuse a Senigallia, Arcevia e Tre Castelli le lezioni sono sospese la protezione civile non dormite al piano terra non dormite al piano terra perché se arriva un alluvione il piano terra è il primo a essere invaso dall'acqua dal fango e da tutto quello che è capitato qualche tempo fa con gravi ripercussioni anche per quanto riguarda la vita delle persone ed ora passiamo anche a qualche notizia di sport e vediamo come è andata per le nostre squadre di calcio il campionato di ieri pesero impossibile giocare ebbene il maltempo ha impedito che si svolgesse la partita al Benelli il Benelli ridotto a un immenso acquitrinio nonostante le idrovore al lavoro sotto la pioggia hanno cercato le pompe di asciugare l'acqua ma non ci sono riusciti vediamo qui in questa fotografia il tubo che avrebbe dovuto assorbire l'acqua ma le pozzanghere erano così vaste che il terreno non ha assorbito nulla e quindi l'acqua è rimasta in superficie è stato l'arbitro a sospendere a non iniziare la partita proprio a pochi minuti dal momento in cui doveva avere inizio quest'ultima vediamo invece che cosa ha fatto il Fano Calcio sorvogliamo l'Ancona che fa sul serio e si è imposta sul gubbio fuori casa per 1-0 e vediamo che invece il Fano Calcio ha avuto un risultato ancora più bello ancora maggiore Fano 2, Tolentino 0 Broso e Severini sono i due marcatori il Fano va in Granata battono il Fanalino di Coda il Tolentino e finiscono a ridosso della zona dei play-off si hanno saliti ormò nella classifica un match è stato vibrante così viene definito dal Corriere Adriatico i Cremesi non si danno per vinti ma nel fango del Mancini emerge l'Alma e quindi il Tolentino deve andarsene all'asciutto con 0 gol mentre il Fano ne ha fatti due l'abbiamo vinta con i cambi ha detto l'allenatore Mosconi gli episodi sono stati a nostro favore è vero ma vanno ricercati è bello per un allenatore girarsi e vedere quante soluzioni può utilizzare ora non molliamo ebbene le Granata hanno imboccato la direzione giusta e ora cercano di concretizzare anche nelle prossime partite questo momento favorevole la Vigor Senigallia la Vigor Senigallia si accontenta di un pareggio con il notaresco risultato 1-1 nel primo tempo i Rosso-Blu sono la controfigura della squadra Mirata in casa ma il notaresco va in vantaggio poi Mancini riesce a trovare il pareggio e quindi il Senigallia rimonta questo momentaneo distacco e quindi termina la gara in parità vediamo anche qualche altra gara scatto azzurra Colli la Iesina finisce K.O. con Azzurra-Colli 2 mentre la Iesina non segna 0-0 gol i Rosso-Blu vincono lo scontro diretto con i Leoncelli e si portano al secondo posto invece l'Osimana si ferma al palo solo un punto con il Gallo mentre il Fossombrone lo vediamo qui in questo articolo rimonta il Montefano e la gara finisce in parità 1-1 partita equilibrata dell'Aquila illude Iviola Germinale firma però l'1-1 giriamo ancora le pagine vediamo il basket l'AVL non muore mai coach Repesa afferma la vittoria contro il Verona è straimportante ha dichiarato abbiamo dimostrato una maggiore maturità in questa gara ora concentriamoci sulla partita a Sassari sarà molto dura contro una squadra che è in grande crescita ma l'AVL insomma non è da meno mentre la Vigilar ha agguantato la vittoria per il rotto della manica così possiamo dire Vigilar una vittoria sofferta Fano parte a Razzo per poi subire il ritorno di un avversario che fino alla fine non ha mollato nei primi due parziali la squadra di Castellano non concede nulla Gozzo però chiude i conti sul 3-1 quindi Fano tre partite buono il Parma se ne accontenta con una è stata una partita non certo facile per quanto riguarda appunto la squadra di volley del Fano e poi vediamo il risultato ottenuto da una splendida ragazza Bancolini e Pagliarini show a Dancona la mezzofondista record 26 anni dopo nello sprint d'allievo dell'atletica Fano Tecfem demolisci il primato marchigiano under 18 ebbene vediamo qui questi atleti che si fanno onore nel mezzofondo vediamo a sinistra Virginia Bancolini della Steffa Mura e a destra lo sprinter fanese Francesco Pagliarini eccolo qua lo inquadriamo meglio qui vediamo le ragazze e qui il nostro atleta ebbene ed ora torniamo alle notizie e vediamo qualche notizia di cronaca ad Ancona è successo veramente di tutto un poliziotto ha tirato fuori una pistola e ha cominciato a sparare ad un conoscente c'era della ruggine tra loro due tutto è cominciato in discoteca poi è finito da un'altra parte in una strada vicino all'abitazione appunto dell'avversario lite per futili motivi tra loro due una vecchia ruggine il poliziotto ha sparato e ha ferito ad una gamba tra la gamba e l'anca insomma l'altro giovane e ora appunto viene inquisito vi ammazzo tutti poi due colpi il poliziotto ferisce un giovane ultra dopo la lite in discoteca resa dei conti sotto casa ed è stato arrestato mi hanno sparato poi caos all'ospedale e l'altro articolo che riguarda appunto la stessa notizia l'urlo di Niccolò e lo scontro tra amici e parenti rivali ci sono fronteggiati poi gli amici dell'uno e gli amici dell'altro insomma e poi tutto è finito è finito all'ospedale questo un po' per un carattere magari troppo troppo esuberante troppo violento che ha determinato per un non nulla gravi conseguenze poliziotto con il mito della divisa terzo articolo per quanto riguarda la stessa notizia tre pagine dedicate a questa vicenda poliziotto con il mito della divisa è un procedimento disciplinare i sospetti della droga l'avvocato dice è stato aggredito poi ovviamente le tesi dell'uno dell'altro sono quelle che poi porteranno nella difesa e nel processo che seguirà ed ora prego ci sono degli aggiornamenti sullo stato del medio del cellulare se quelli dei rizzaggi vediamo un attimo che cosa ci dicono per quanto riguarda il maltempo dal comune di Senigallia tutti gli idometri a monte hanno superato i livelli di sicurezza ebbene preoccupa in modo importante l'innalzamento dell'acqua nella zona di Senigallia che è una zona molto molto sensibile per quanto riguarda le alluvioni chiusi in via precauzionale il centro commerciale Conad di via Bagnano l'MDD il Si Conte e Amico Market lo stradone Misa è stato chiuso al transito le pattuglie delle forze di polizia della protezione civile e i volontari stanno avvisando la cittadinanza queste sono delle comunicazioni che provengono dal comune di Senigallia quindi sono comunicazioni reali comunicazioni vere che devono essere prese con la massima attenzione dunque tutti gli idrometri a monte hanno superato i livelli di sicurezza quindi attenzione coloro specialmente vi ho detto prima che gli appartamenti a piano terra devono essere abbandonati in questo caso perché può essere che arrivi anche qualcosa di brutto insomma e poi in via precauzionale l'ufficio postale di via Fratelli Bandiera resterà chiuso fino alle ore 10 sempre fino alle ore 10 chiuso anche il distretto sanitario di via Campo Boario tutto questo sempre da Senigallia quindi abbiamo ulteriori aggiornamenti e poi se magari ne arriveranno altri ve le notificheremo appunto appena arriveranno continuiamo la nostra rassegna stampa e vediamo come per quanto riguarda il nostro territorio ieri si è verificato un incidente mortale purtroppo la trappola di ghiaccio sulla strada era la Flaminia la Flaminia nel tratto tra Cagli e Cantiano muore un camionista giovanissimo di 22 anni questo il titolo che appare oggi sulle Corriere Adriatico l'incidente si è verificato alle 7.30 sulla Flaminia a Cagli il ragazzo è volato dal viadotto per oltre 20 metri che cosa è accaduto presumibilmente è stato il ghiaccio a impedire l'adesione dei pneumatici sull'asfalto ha sbandato dapprima il rimorchio di questo tir che procedeva verso l'Umbria il ragazzo è un autotrasportatore che lavorava per l'azienda del padre e riforniva i supermercati della zona aveva appena terminato una consegna stava ritornando a casa in quel momento erano le 7 e al mattino quindi la temperatura era piuttosto rigida appunto il rimorchio del suo autotreno ha sbandato questo ha fatto sì che la motrice sterzasse involontariamente dal volante del camionista verso il guardrail un colpo terribile e il ragazzo è stato sbalzato fuori dell'abitacolo è precipitato in quel momento stava avarcando un cavalcaferrovia un ponte è precipitato di sotto ha fatto un volo di 20 metri è caduto sul Burano e purtroppo è deceduto sul colpo quindi una dinamica veramente drammatica quella che è accaduta nella giornata di ieri poi sono arrivati i soccorsi i vigili del fuoco i carabinieri di Fano che hanno svolto tutte le indagini e poi dunque la notizia terribile della tragedia era un ragazzo di 22 anni nativo italiano di una famiglia di origini albanesi che però insomma era una famiglia che si era perfettamente integrata nel nostro territorio vediamo anche le altre notizie blackout crolli allagamenti per il maltempo nuova allerta il vento a 90 km all'ora nella notte e oggi la criticità è di livello arancione a livello arancione già a metà mattinata ieri i vigili del fuoco nel pesarese avevano effettuato 50 interventi e ne avevano 130 in coda insomma veramente una giornata molto molto intensa e soprattutto molto faticosa perché poi rimuovere tronchi tagliare rami liberare le strade insomma porre in sicurezza quelle zone che sono critiche per quanto riguarda l'acqua che si accumula è un lavoro piuttosto faticoso una serie di fotografie si evidenziano sui giornali per quanto riguarda l'opera compiuta dai vigili del fuoco apriamo anche il resto del carlino vediamo la prima pagina che sintetizza un po' tutte le notizie della nostra regione vediamo a Pesaro la fotografia dell'incidente che si è verificato sulla Flaminia tra Cagli e Cantiano sbanda sul ponte camionista di 22 anni precipita e muore su un viadotto della Flaminia la guida di un auto articolato è stato sbalzato fuori dell'abitacolo il traffico è stato deviato e quindi non si sono formate quelle lunghe code che di solito si formano quando un incidente preclude la transitabilità di una strada a piazza del popolo a Pesaro si è svolta ugualmente comunque la cerimonia della benedizione degli animali organizzata dalle giubbe verdi a cavallo appunto da questa associazione benemerita che organizza un po' queste manifestazioni nei vari centri della provincia e poi si parla anche qui del terremoto terremoto calcinelli e l'epicentro niente danni per fortuna ma nemmeno credo ci sono stati problemi per le case per le strutture insomma edilizie è stata una scossa che ha determinato paura ma per fortuna si è risolta così senza alcuna conseguenza vediamo anche l'articolo che riguarda la lite in strada con il colpo di rivoltella che ha ferito un giovane a Dancona scoppia la lite in strada poliziotto spara al rivale resa di conti all'alba in via Flavia dopo il diverbio in discoteca un ragazzo ferito ad una gamba agente posto in stato di fermo ad Ascoli invece si parla di neve Monte Piselli sotto la neve ma non si scia in pianti aperti da mercoledì prossimo e poi a Zannata vi ricordate quella signora che è stata a Zannata dai due Rottweiler ebbene purtroppo le hanno amputato un braccio e una gamba purtroppo sono state veramente gravi le ferite riportate da questa donna che è stata a Zannata da due cani che sono due cani mordaci anche la loro razza è particolarmente aggressiva e violenta e quindi purtroppo questo episodio è finito malamente è finito con questa grave amputazione un rogo a Molini girolla di fermo un rogo devasta una fabbrica verifiche ARPAM non aprite le finestre per quanto riguarda le emissioni gazzose che si sono sprigionate dall'incendio apriamo il giornale e vediamo ora passiamo rapidamente la lite in Ancona lite in strada sciocca all'alba poliziotto spara un giovane ne abbiamo parlato diffusamente le urla i colpi e l'inseguimento come nei film anche il Carlino dedica parecchio spazio a questo episodio che certamente è importante e poi anche la donna che è deceduta nell'incendio di cui abbiamo riferito muore nell'incendio dell'appartamento tragedia a Senigallia si tratta di una 76enne deceduta per il monossido di carbonio scatta l'allerta meteo a Senigallia il sindaco chiude tutte le scuole allerta meteo scuole chiuse a seguito della proroga di allertamento valida fino alle 14 di oggi ma abbiamo visto anche come nel nostro territorio l'allerta è scattata con un colore arancione quindi siamo ad un livello di allerta particolarmente interessante e ieri dobbiamo dire che la protezione civile di Fano che è stata molto impegnata appunto anche a rimuovere alberi rimuovere rami per tutto il territorio controlla in modo particolare i corsi d'acqua quindi attenzione speriamo ormai che oggi le cose si rasserenino ed era l'ultima notizia a questo punto non mi rimane che darvi appuntamento a domani alle 7 e per ulteriori aggiornamenti lo vedremo nel corso della giornata grazie per l'ascolto a risentirci